Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. Prossimo esercizio. Passo laterale più sforbiciata delle braccia. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non sollevare o abbassare i puliti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più cruci. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più rotazione delle braccia con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non sollevare le spalle. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e gli glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Crunch cross in piedi più pugno frontale con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non sforzare il collo. Aiutati guardando un punto visto avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Prossimo esercizio. Twist in piedi con manubri. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare la ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Prossimo esercizio. Pugno alto più ginocchiata con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle. Tieni le rilassate durante tutto l'esercizio. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tieni le sempre basse e rilassate. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più cari, con pesi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non oscillare con la schiena. Per aiutarti, tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle. Mantieni le sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non piegare i polsi durante il movimento. Tieni le mani in linea con gli avambracci. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Prossimo esercizio. Summa squat più pugno alto con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre nasse con i piedi. Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate frontali con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Prossimo esercizio. Croci in piedi con manubri. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Mezzo squat e pugno laterale con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare la ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale più squat e ginocchiata con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Quando scendi, non superare con le ginocchia le punte dei piedi. 5 4 3 2 1 Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate alternate con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. Non piegare la testa. Non piegare la testa. Tieni la sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto. Tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Prossimo esercizio. Crunch cross in piedi con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento, occorre che sia sempre ben distesa. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. 3, 2, 1, via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 1, stop! 6, 1, stop! 8, 1, stop! Grazie.